In un momento di grande dibattito e riflessione intorno al Festival di Sanremo 2024, la voce di Albano Carrisi si eleva non dalla scenografia dell'Ariston, ma dalla profondità del suo impegno verso il mondo agricolo. In una dichiarazione rilasciata a Lanza, il cantante pugliese conferma la sua decisione di non partecipare fisicamente all'evento, pur esprimendo un forte sostegno spirituale alla protesta degli agricoltori. Non è il caso che vada io, questa è la protesta degli agricoltori, non dell'agricoltore singolo, sottolinea Albano, evidenziando l'importanza di dare voce collettiva alle esigenze e alle difficoltà che il settore agricolo sta affrontando. La sua scelta riflette una consapevolezza profonda dell'identità collettiva di questa protesta e della necessità che siano gli stessi agricoltori a portare sul palco le loro istanze. Prima di proseguire, vogliamo invitarvi a un momento di riflessione. Credete che l'azione di Albano, sebbene non fisicamente presente, possa avere un impatto significativo sulla visibilità e sul sostegno alla causa degli agricoltori? È possibile essere presenti e influenti anche solo con il pensiero e il sostegno morale? Condividete le vostre opinioni nei commenti. Interrogato sull'attuale situazione dei lavoratori della terra, Albano non nasconde le difficoltà. Chi andrà sul palco saprà esporre alla grande quali sono le problematiche del settore. E aggiunge, con un tocco di amara ironia, meno male che fai il cantante, puoi sistemare le assurde spese che ci sono da affrontare. Questa dichiarazione non solo illumina le sfide economiche incontrate dagli agricoltori, ma sottolinea anche il valore della diversificazione delle fonti di reddito e dell'impegno personale. In più fronti, la scelta di Albano di rimanere a distanza dal festival, pur essendo vicino nella causa, apre una riflessione più ampia sull'impatto che figure pubbliche possono avere nel sostenere cause sociali, anche senza una presenza fisica. La sua decisione di non voler distogliere l'attenzione dalla protesta stessa, ma di volerla sostenere spiritualmente, evidenzia un modo diverso di concepire il sostegno e la solidarietà. Cosa ne pensate della posizione di Albano? Ritenete che il suo sostegno spirituale possa contribuire effettivamente alla causa degli agricoltori? E in che modo pensate che figure di spicco nel mondo dello spettacolo possano influenzare positivamente cause sociali, anche optando per una presenza non fisica? Grazie.